Il giorno dopo, in un istante di solitudine, mi rifugiai di nuovo accanto al giovine che mi disse di volermi bene e mi impedì di parlare soffocandomi con brevi baci sulla bocca, sul collo. Mi scostai un po' infastidita, ma nei dì seguenti la compagnia di lui mi parve necessaria. Dimenticavo in quei momenti il dolore che portavo Meco dalla casa, che mi si incrudeliva ogni volta che incontravo lo sguardo di mio padre e non chiedevo altro, paralizzata. Egli comprendeva la mia incoscienza, constatava la mia ignoranza, la mia frigidità di bambina quindicenne. Velando con gesti e sorrisi scherzosi l'orgasmo onde era posseduto, con lenta progressione mi accarezzò la persona. Si fece restituire carezze e baci come un debito di gioco, come lo svolgimento piacevole di un prologo alla grande opera d'amore che la mia immaginazione cominciava a dipingermi dinnanzi. Così, sorridendo puerilmente, accanto allo stipite di una porta che divideva lo studio del babbo dall'ufficio comune, un mattino fui sorpresa da un abbraccio insolito, brutale. Delle mani tremanti frugavano le mie vesti. Arrovesciavano il mio corpo fin quasi a coricarlo attraverso uno sgabello, mentre istintivamente si divincolava. Soffocavo. E diedi un gemito che era per finire in urlo. Quando l'uomo premendomi la bocca mi respinse lontano, udì un passo fuggire e sbattersi l'uscio. Balcollandomi rifugiai nel piccolo laboratorio in fondo allo studio. Tentavo ricompormi mentre mi sentivo mancare le forze, ma un sospetto oscuro mi si affacciò. Slanciatami fuori dalla stanza vidi colui che mi interrogava in silenzio, smarrito, ansante. Dovevo esprimere un immenso orrore poiché una paura folle gli apparì sul volto mentre avanzava verso di me, le mani congiunte in atto supplichevole. Appartenevo ad un uomo, dunque. Lo credetti dopo non so quanti giorni di uno smarrimento senza nome. O di essi una rimembranza vaga e cupa. Di improvviso la mia esistenza, già scossa per l'abbandono di mio padre, veniva sconvolta, tragicamente mutata. Che cos'ero io ora? Che cosa stavo per diventare? La mia vita di fanciulla era finita. Il mio orgoglio di creatura libera e riflessiva spasimava, ma non mi permetteva di indugiarmi in rimpianti e discolpe. Mi spingeva ad accettare la responsabilità dell'accaduto e tentavo giustificare affannosamente ciò che mi riempiva di stupore. Poi salto qualche pagina. Sola, in silenzio, mi lasciavo invadere da una specie di autosuggestione, di follia lucida. Era l'influsso dell'improvvisa scossa fisiologica. I ricordi che servo sono come quelli della febbre. Quando mi dissi per la prima volta che dovevo forse ricambiare la passione di quell'uomo, accettare da lui per tutta l'esistenza l'appoggio, il rifugio che egli mi offriva, separandomi da tutto ciò che aveva costituito fino allora la mia vita, non lo so. Non vedo più chiaramente. Avevo cominciato a pensare che forse io amavo il giovane da tanti mesi senza saperlo, che forse qualcosa sotto le umili apparenze mi aveva seduta di inesplicabile. Poi avevo soggiunto che forse in quel avvenire di amore e di dedizione, non mai prima intraveduto, era la salvezza, era la pace, era la gioia. Sua moglie, non lo ero già. Egli mi aveva voluto. Egli mi era destinato tutto, si era disposto mentre io credevo seguire una ben diversa via. Quello sposo delle leggende che mi era sempre parso un puerile personaggio, esisteva. Era lui. L'uomo s'accorse subito che la sua causa trionfava e forse non ne fu neppure molto sorpreso. Aveva però tremato. Adesso più sicuro, pieno di speranza. Secondava le effusioni che io esalavo in lettere e in parole, alte e puerili insieme. E per arrestarmi sulle labbra ogni domanda di esplicazioni, ogni interrogazione sull'accaduto, riprendeva a baciarmi le mani e i capelli fugacemente. E mi ripeteva con un poco di solennità che tutta la sua esistenza non sarebbe bastata a ringraziarmi del dono della mia e tentava impadronirsi di nuovo della mia persona.